La percentuale, se vogliamo, e anche la percentuale di penalizzazione è una percentuale molto elevata. Significa andare a pesantire di oltre il 50% dei costi associati a un determinato lavoro, chiaramente di natura artigianale o un contratto di appalto per lavori svolti in Canton Ticino. Burocrazia e costi aumentati. È sempre più difficile lavorare in Svizzera per le imprese artigiane italiane, soprattutto dopo l'introduzione della LIA, legge sulle imprese artigianali, in vigore da febbraio ma operativa ad agosto, che obbliga le aziende a presentare domanda per iscriversi a un apposito albo, rispondendo ad alcune richieste, anche economiche, come la tassa da 2.000 franchi, ai quali se ne aggiungono 300 per ogni categoria aggiuntiva. Di questo si è parlato oggi all'Ario Fiere, a Erba, durante il seminario promosso dalle Camere di Commercio di Como e Lecco, in collaborazione con un'industria, per spiegare agli imprenditori lariani quali requisiti rispettare tecnicamente per poter continuare a lavorare in Svizzera. Esperti hanno quindi illustrato passo passo la procedura di iscrizione, spiegando i tempi e gli obblighi da rispettare, come la cauzione da versare o la retribuzione dei lavoratori distaccati, per evitare problemi e sanzioni. Abbiamo voluto però fare una riflessione sulle criticità di questa normativa affinché, anzitutto, le aziende fossero informate e poi chiediamo che la Lombardia, insieme anche al Governo centrale, si facciano cariche negli incontri con le autorità svizzere affinché ci sia, anzitutto, rispetto dei patti bilaterali e poi si faccia chiarezza nella interpretazione di alcuni concetti che sono espressi in questa nuova normativa. L'introduzione di questi obblighi porta a fuori mercato, in termini di competitività, di prezzi, molte aziende, specialmente per lavori più piccoli, in termini di valore, meno competitivi, con meno margini, e chiaramente l'introduzione degli obblighi e dei costi associati, di fatto rendono poco profittevole e poco fattibile andare e poter competere in Canto Ticino su determinati lavori.